Bentornati a tutti quanti, è appena finita la seconda giornata del weekend di gara di Suzuka dove si sono svolte le prove libri 3 e la qualifica. A differenza del venerdì a questo giro siamo riusciti a vedere due sessioni completamente piene senza essere interrotti dalla pioggia, quindi siamo riusciti a raccogliere un bel po' più di dati per provare a fare il punto di quello che sarà la gara di domenica. E poi anche andremo a vedere quelli che sono stati, i tempi della qualifica e a vedere chi ha performato meglio in quale punto della pista. Terza prova libera che come ci saremo aspettati è stata veramente ricca di azione non sono praticamente mai stati fermi. Una prima parte, i primi 45 minuti sono stati dedicati interamente al passo gara cosa che andremo a vedere e soprattutto andremo a vedere quale scuderia può fare veramente la differenza per poi arrivare agli ultimi 15 minuti della sessione dove tutti quanti si sono lanciati nella prova di qualifica per poi andare a preparare al meglio quella che è stata una pole position stratosferica di Max Verstappen. Lo sapevamo, ce l'eravamo detti, Verstappen sarebbe arrivato dall'Australia con una grinta agonistica altissima e così è stato, avrebbe voluto sicuramente schiacciare e demolire la concorrenza. Concorrenza che si è fatta molto forte sul passo gara rispetto anche all'anno scorso. Avere un tracciato di Suzuka a inizio dell'anno rispetto all'anno scorso che era in fondo alla stagione ci fa ben capire quelle che sono le differenze delle macchine tra quelle completamente sviluppate del 2023 e poi con le prime vetture del 2024. Infatti ci sono dei dati veramente molto interessanti. Il passo gara delle prove libere 3 è ricominciato precisamente dove è finito il passo gara delle prove libere 1 con una Ferrari molto molto performante con la gomma gialla che riesce a girare molto più forte in tutte quante le fasi anche di Red Bull. D'altro canto come ha affermato anche Helmut Marko Red Bull pare girare con molta più benzina ma oltre al carico di carburante vediamo anche dal grafico della telemetria della velocità come sempre Leclerc in rosso e Verstappen in blu che in fondo ai dirizzoni Leclerc è molto più veloce ha una velocità di punta molto più alta. Questo può indicare anzi quasi sicuramente indica che Red Bull è anche molto più bassa come mappatura motore. Ci sono in dei punti dove addirittura Leclerc 12 km orari più veloce di Verstappen 13 che è assolutamente tantissimo e su un giro fa una differenza abissale. Infatti vediamo che il delta quindi il distaccolo tra le due vetture tende sempre ad aumentare a favore di Leclerc. Quindi per questo non dobbiamo assolutamente farci illusioni su quello che sarà poi la gara di domenica. Red Bull estremamente performante. Una cosa che mi sarebbe piaciuto vedere sarebbe stato un passo gara da parte di Norris cosa che però non ha fatto per dare priorità alla preparazione della qualifica. Però è stato fatto da Oscar Piastri. Qui vediamo che ci sono abbastanza differenze rispetto ai tempi di Leclerc ma nemmeno così tante anche perché si ritorna al discorso di prima. Anche in questo caso Piastri ha delle velocità di punta molto più basse rispetto a Leclerc. Rispetto a ciò che abbiamo visto prima con Red Bull qui possiamo osservare che Piastri ha una velocità minima quindi una velocità di percorrenza di curve lente più alta di Leclerc. Questo sta a significare una vettura più carica aerodinamicamente cosa che si rispecchia appunto anche nelle velocità di punta molto più basse. Ed è per questo che non bisogna assolutamente prendere sotto gamba il passo di McLaren. Tra pochissimo quando parliamo delle qualifiche andiamo a vedere anche il perché. Un piccolo focus per quanto riguarda anche gli altri team differenze tra Mercedes e Aston Martin nette dove Aston Martin sembra essere molto più veloce, molto più costante. Quindi sicuramente potremo vedere Mercedes in difficoltà in gara. Mi sarebbe piaciuto andare a vedere anche i passi gara dei team minori ma ci sono state delle discrepanze tra l'utilizzo delle gomme e qui viene anche difficile poter fare un paragone. Per quanto riguarda le prove di qualifica sono rimasti gli stessi valori che vedremo tra pochissimo in qualifica. Vorrei solamente fare un appunto sulla prestazione delle Clerc. Prestazione che è venuta un po' a mancare in qualifica sia per le caratteristiche della vettura sia soprattutto perché il monegasco non si è trovato molto bene con il bilanciamento della macchina. Faticavano tantissimo nel primo settore infatti ora andiamo a vedere che perdeva veramente tantissimi decimi in confronto a Red Bull e McLaren. Il monegasco in prova libera avrebbe voluto provare anche un ala anteriore più carica che potesse comunque favorirgli una precisione maggiore nelle curve veloci. Cosa che però gli è stata negata da Ferrari lasciandolo al box e privandolo di un buon tentativo in prova libera 3. Entriamo nel vivo della qualifica. Verstappen e Perez dominano completamente. Finalmente dopo un anno Perez riesce a mettersi al fianco di Verstappen in seconda fila. Si conferma molto forte McLaren nel primo settore infatti andremo a vedere come nel primo settore sia stata in assoluto la più veloce anche più veloce di Red Bull. Quindi Norris terzo, Sainz quarto, Alonso quinto seguito da Piastri, Hamilton e Leclerc che si ferma solamente in ottava posizione per i problemi di cui abbiamo parlato poco prima. Russell in nona posizione che si prende una suonata clamorosa da parte di Lewis ben due decimi e mezzo dal compagno di squadra. Su Noda in una bellissima Q3 in decima posizione. Fuori dalla top 10 troviamo Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon e Ocon. Ocon che è riuscito ad entrare in Q2 veramente in modo clamoroso anche perché è riuscito ad approfittare bene di quello che è il miglioramento della pista portando veramente un ottimo tempo. Fuori clamorosamente dalla Q2, Stroll che lo troviamo in sedicesima posizione contro la quinta posizione di Alonso seguito poi da Gasly, Magnusser, Sergiant e Ju. Ju che ha questo giro prende veramente sei decimi dal compagno di squadra che sono un'enormità. Veramente molto bene Bottas, non me lo sarei aspettato. Andando a mettere a paragone il giro veloce di Max Verstappen in pole position e di Norris in terza posizione vediamo quanto sia solida McLaren nel primo settore che può sembrare poco ma per una qualifica del genere così tanto dominata da Verstappen significa che McLaren dal punto di vista aerodinamico è veramente veramente forte e conferma appunto il fatto che nelle curve veloci siano in questo momento i più veloci in assoluto. Poi durante il resto del giro comunque perdono tanti decimi, perdono tanti decimi in quelle che sono comunque le staccate, le ripartenze quindi hanno problemi di trazione però per quanto riguarda le curve veloci sono veramente fortissimi. Una Ferrari che in qualifica non è mai stata all'altezza di Red Bull perde veramente tantissimo tempo in quelle che sono le fasi di staccata cosa che bisogna fare anche attenzione perché sono cruciali per magari poter fare dei sorpassi in gara. Sainz staccava sempre praticamente in tutte le curve molto prima di Perez andando praticamente a prendersi lì tutto quanto lo svantaggio che ha accumulato anche perché poi nelle fasi guidate non c'è stato un vero dominio e una vera forza marcata di Red Bull anzi nello Snake si sono alternati entrambi a volte più veloce Perez a volte più veloce Sainz uguale alla Spoon andando a comparare Sainz e Norris vediamo come la nostra tesi si avvale ancora di più con un Norris veramente veramente fenomenale in percorrenza di curva praticamente sullo Snake è sempre andato più veloce nella curva prima del tornantino è andato sempre più veloce nel tornantino è andato sempre più veloce nell'ultima chicane è andato sempre più veloce quindi insomma veramente una grandissima qualifica per la McLaren Tsunoda che si porta a casa comunque una bellissima Q3 onora il suo Giappone in questo modo strepitoso secondo me non poteva fare assolutamente di meglio è stato veramente molto bravo ha messo dietro Ricciardo ok comunque in crisi ma un Daniel Ricciardo Ferrari è stata un po' troppo conservativa per quello che è stato l'assetto da qualifica ha puntato tutto quanto sulla gara cosa che a questo punto mi sento di dire che purtroppo potrebbe non pagare partendo così tanto indietro anche se si ha un passo eccezionale è molto difficile riuscire ad arrivare a prendere Red Bull anche solamente Periz spero comunque di sbagliarmi e spero anche in una gara bagnata che possa rimescolare le carte in tavola per vedere qualcuno da dietro arrivare un pochino più davanti e tornando al discorso fatto all'inizio del video che quest'anno Suzuka è all'inizio dell'anno quindi con le macchine senza aggiornamenti mentre l'anno scorso Suzuka era la fine dell'anno quindi con le macchine con praticamente tutti gli aggiornamenti vediamo veramente quelle che sono state le migliorie delle varie scuderie grazie al grafico di F1 telemetri data possiamo vedere come Aston Martin sia quella che è migliorata di più nell'inverno addirittura andando a togliere un secondo e 78 che è veramente un abisso anche Sauber migliorata molto mentre invece colei che è migliorata di meno è stata Red Bull con solo 680 millesimi però erano talmente forti che comunque si possono permettere di migliorare così poco rispetto agli altri e poi Aston Martin ha migliorato così tanto perché gli aggiornamenti che hanno portato durante l'anno scorso non sono mai stati così efficaci quindi ancora complimenti a Red Bull quindi grazie mille per essere arrivati fino a questo punto del video scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e chi potrebbe fare il podio nella gara di domenica noi ci risentiamo domani dopo la gara vi auguro un buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti